Il Ministro Fanno intanto lo vorrei richiamare ad un comportamento più consono alla sua carica, non può cercare di trasportare sul personale ciò che invece deve essere oggetto di un dibattito politico serio. I tagli ci sono, ci sono stati, c'è un apparato della sicurezza che è stato debilitato e il mio intervento in tutto il territorio nazionale è per cercare di oggettivare a livello locale. Se uno va nel palazzo qui dietro che è il commissariato e chiede nel 2010 ad esempio quanti uomini c'erano e quanti ce ne sono oggi, quante volanti c'erano, quanti mezzi e quanti ce ne sono oggi, come sono i caschi, sono marci, i giubetti antipurettili sono scaduti, gli M12, la pistola metalliatrice, è della stessa partita di quella mostrata a Ballarò come il resto del materiale e come in tutta Italia. Allora ci rendiamo conto se si va dentro che le condizioni oramai di vivibilità, di igiene e di salubilità sono al di fuori di tutti i parametri di legge. Quanti soldi? Ci può un commissariato come questo essere pulito con due o tre ore sanificate alla settimana di pulizie oppure con 100 euro all'anno di cancelleria? Queste sono delle contraddizioni, sono dei dati oggettivi che mettono in luce che ormai è un apparato e debilitato. E' questo che non accettiamo dal Ministro Fanno. Inutile andare in televisione senza contraddittorio dire che 65 mila uomini della Polizia di Stato ha fatto un corso antiterrorismo, tre slide elementari che durano circa tre ore e si pensa con questo di poter addestrare a una disciplina tecnico-pratica come quella tecnico-operativa. Sono sciocchezze che servono soltanto per mettere le carte a posto e poter scioinare dei numeri senza contraddittorio che poi non hanno nessun valore. Se noi siamo in grado di comunque poter sviluppare un'attività con la formazione e gli equipaggiamenti adeguati, noi siamo in grado di servire. Noi non abbiamo chiesto nella nostra protesta in questo momento, non abbiamo avanzato rivendicazioni di carattere di utilità interna, ma semplicemente tutto ciò che invece ci porta a poter servire nella maniera più adeguata alla cittadinanza. Noi vogliamo servire al meglio la nostra comunità, la comunità della quale fa parte e che in questo momento patisce la prima preoccupazione, ossia quella della sicurezza.